Feroci tiri, pronte a... Ghermire! Dopo 11 anni Tolentino è tornata ad ospitare il raduno degli scout della provincia di Macerata. Ogni anno gli esploratori e le guide di tutto il mondo si ritrovano ad aprile nella ricorrenza di San Giorgio Martire, patrono degli scout, per celebrare insieme la propria appartenenza associativa. Quest'anno ad ospitare l'evento più importante degli scout del Maceratese, che si è svolto il 18 e il 19 aprile scorsi, è toccato al Castello dell'Arancia di Tolentino. E questo è il San Giorgio. Il San Giorgio è la riunione degli scout, degli esploratori e delle guide, cioè i ragazzi che vanno dagli 11 ai 15 anni, cioè il reparto degli scout. Qui abbiamo tutto il campo costituito dalle tende di gruppi di Potenza Picena, Portopotenza, Portorecanati, i gruppi maceratesi, i gruppi di Civitanova, il gruppo locale, Mogliano, Corridonia. Tutti insieme questi sono la zona scout di Macerata. Ogni anno, attorno al 23 d'aprile, che è l'anniversario di San Giorgio, noi, così come ci ha consigliato il fondatore già dall'inizio della nostra vicenda, dal nostro movimento all'inizio del Novecento, ci ha consigliato di riunirci sempre in questi giorni, perché San Giorgio è il protettore degli scout. E dopo dieci anni, dal 2004 ad oggi, siamo tornati qui al castello e anche dopo dieci anni, nuovamente il sabato, abbiamo dovuto affrontare le intemperie e la pioggia, come accade sempre, ormai storicamente, a tutti i nostri eventi, a tutti i nostri San Giorgi della zona. Però i ragazzi si sono divertiti, i ragazzi hanno potuto conoscere, hanno visto quello che è la valle, hanno visto i terreni attorno al castello e hanno visto il nostro castello e hanno potuto apprezzarne anche l'interno. E questo ha giocato molto al morale anche quando eravamo sotto la pioggia battente. Grazie a tutti!